Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo con un'altra fan diciamo Ah, ah, ciao mondo Allora, eeeh Questo video ovviamente l'è scritta Eeeh, poveretta, mi dispiace Cioè, ha detto subito sì che si iscriveva Eeeh, mi aspettavo che diceva un no Ma invece si è scritta Allora Che si vede che l'ho fatta con le mie mani Perché ha anche scritto sono una persona Una, eh sì, già, sei una persona Fortunata che sia una persona Molto alla moda Eeeh, aspetta No Perché assomigliano a quei cosi di Among Us Sì sì Eeeh, non ho saputo farle tanti Tante bene Però dai Among Us Sì 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 Per dire che è bello E per dire, vabbè Sì 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 Seeeh Nooo Tony, nooo Tony Lampioni È forma di Among Us Però la volta come lo dice bene Among Us Perché dice proprio Among Us Among Us Dove scusa Ok Ha tredici anni lei Dovrebbe essere molto bella questa Allora Eeeh, qua Eeeh, qua E di questi qua Among Us Eh, stavo Among Us Among Us Nooo Sì sì Ma non lo stavo più scrivendo bene Come, prima stavo scrivendo bene Ora no Allora Ok Ok Eh, se vuoi tu Perché ovviamente Vabbè Eh, ok Aspetta che mi sposto Vabbè, intanto io già li apro Allora 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 La Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.